Ed ecco cosa succede quando lasci la macchina alla mamma Durante il periodo di festività Devo andare, chiudi Andre! Sono in ritardo Oggi porto mio figlio con me Ma dove mi porti? Shopping! E se vi state chiedendo con che ferro andremo Allora mamma sei pronta per questa experience? Oddio devo andare in moto Panico! Andre ma quale casco prendo? Sono lì? La autocross? Vedo questo? Si Ok Accendi te oggi Vediamo Come è andato questo viaggio? Unboxing? Salicino che andiamo Adesso vedrete la mamma che accende Poi so anche che si spinge la frizione E' però il bussane qua In jean Si spinge la frizione oppure no? E' lei Mai dare una macchina in questo modo alla persona Premi il freno Poi premi questa Sei in prima adesso Devi dar gas E basta va via da sola Piano gas Si perché sennò vado contro il muretto Di più a sinistra Di più a sinistra Di più a sinistra Stop mamma No non tocco Non manca tanto però Vado indietro Troppo piano Non rischiamo Sii Ma questa non me l'avevi detto Dovete sapere che la mamma deve andare a fare la spesa oggi E il buon figlio ha deciso di accompagnarla In realtà ho fatto un sondaggio visto che sotto uno dei commenti c'era un botto di persone che volevano Vedermi andare a fare la spesa con te Il problema che ci stavamo domandando è dove mettiamo tutta la roba che compriamo Ma dovremmo comprare poco Quanto è poco? 10 panettoni Una casa di sottili frutta Dobbiamo fare la spesa per tutto l'anno fondamentalmente Esatto Poveramè C'è un problema al baura Ecco qual'era il problema tecnico No No io non voglio Non voglio stare aperta Come non voglio? Sto stretto Ma io mi ammalo Ma no non arriva l'aria Bisogna vedere se veramente Le cose ci stanno Musica anni mamma No questa non è anni mamma Un attio Anni mamma Vai mamma Anni sessanta Ma che? La mamma non ce li ha sessanta No anni ottanta A me piace quella di adesso Ma che me la metto a fare? Ti chiamo anche a fare la spesa? Non lo so Mamma ritmo con me Dai Non la sai? Dai dai Mamma ma che musica conosci? Andiamo avanti Questa si Qui c'è una bella rotondina Dai 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 Gira No 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 Non di là No è qui Io voglio andare a fare la spesa Non voglio andare a fare testa a coda aperti Pronto mamma Leggi qualcosa c'è scritto? Launch Dopo ci lanciamo Nello spazio Grazie Ma che ho fatto di male Testa a coda Mi piacciono Interrappate così Una rotondina interrappata Ti piace? Ah Così sì Uh Dov'è già cambiare le gomme? Noo basta basta Luna meglio Va va Non è venuta bene Allora scendo Non vorrei dire ma questo allo stato attuale è già quanto è pieno il baule Sarà veramente un'impresa tosta Guardate in che spazio favoloso siamo Cioè praticamente questo è un posto della grande distribuzione Per cui hanno tutte le robe che prendono i baristi E stiamo facendo la spesa qua Mamma non sei felice? Sì Commercianti più che baristi Tutti Anche i ristoratori Queste sono quelle che fanno a casa nostro Con una mano non sarà facilissimo Ma queste perché le prendiamo in vetro? Ecco Friandly siamo noi Friandly Oh Sta buonissima la muccia Ho trovato il mio angolo Red Bull Un'altra Red Bull Sì un'altra aspetta Dai 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 un'altra Un'altra e un'altra Mamma non saranno un po' troppe? Qua 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 Un'altra Red Bull forever E adesso come fai a spostarlo? Saranno un po' troppe? Ancora? Hot Wheels o Spiderman? Hot Wheels Questo non può mai mancare Non può mancare Non può mancare E poi cara sorella non dirmi che non ti penso Che so che questa è la tua cosa preferita Mamma altre cose? Questa Martina non dire che non ti penso Siamo seri Mezzo chilo No mamma queste no Fanno ingrassare Lo so ma mi piacciono un sacco Ma scusa se ne hai metto giù Mi piacciono un sacco Fanno ingrassare Mi viene come sono Hot Spicy Dai per favore Dai ti prego Ti prego amore Dai con la paprika Fammele prendere Aiuto Fammele prendere Per chi pensava che Dante avesse scritto solo la Divina Commedia In ottica Capodanno non poteva mancare questo angolo qua dove la scelta è molto impegnativa Questa è diventata la situazione e mamma odio dovertelo ammettere ma penso che siamo full No no aspetta Come noccioline Tanto non ci sta più niente È un aperitivo noccioline Dovete sapere qual è il problema di mia mamma Che oltre a mangiare un sacco di merendine è matta Fottutamente matta Per le luci di Natale Per le luci di Natale Perché? Questo è per l'albero Ma hai già fatto l'albero? E questo è per fuori per l'esterno che non l'ho ancora messo Ma chi guarda fuori? Eh i passanti Sono disperato ogni volta Questo è vetro mamma è pericolosissimo Con i traversi poi I petardi I petardi Mamma No 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 si possono prendere Non si possono prendere perché mamma non vuole Perché poi a mia mamma non basta vedere la confezione Cioè devi vedere che effettivamente dentro ci sono le cose che No perché tu devi sapere che cambia il colore Ah vedi che Sei esperta Ce l'hai fatta? Cosa hai preso? Luci per l'esterno, la tenda che poi mi aiuterai a montare E luci per l'anno prossimo Ha detto bene luci per l'anno prossimo perché ormai il Natale è finito Ah no non è finito Siamo ufficialmente arrivati al momento della verità Sono abbastanza sicuro che non ci stia tutto Preoccupatissima perché lui mi lascia giù a me capito? Ottima idea effettivamente La prese uno me l'ha lasciato uno Questo è realmente adesso il momento più difficile di tutti Eravamo anche indecisi se lasciare giù un po' di cose Cosa avremmo fatto se non ci fosse stata tutta la roba? Dovinate No tu devi dirlo Ma io? Eh che mi lasciavi qua Brava Troppo lontana la macchina Spingi Spingi Dai Guardami quanto vuoi Sono tutte lì le macchina Ed ora siamo al momento della verità Sei pronta? Sì Che questa sfida abbia inizio Questa rete inutile Questa è attualmente la situazione dentro Non delle migliori Allora le cose più grandi per prime E' uno spazio magico E adesso vi faccio vedere una cosa Bottoncino qua e Tada La tecnica che abbiamo deciso di utilizzare E' partire caricando le cose più grandi per prima Questa tecnica marina Guarda il trucco Una roba sfusa Perché con le borse avrebbero occupato più volume E togliere gli involucri inutili Tipo quelli di plastica O di cartone E le gioco sono fette Ah la mia pianta E ci siamo appena accorti che abbiamo dimenticato la pianta dentro Non so come sia possibile C'è stata tutta la spesa che abbiamo fatto Che vi posso assicurare non era poca Più avevamo anche spazio Ancora c'era dello spazio di riserva Ce l'hai fatta Batti 5 Fai anche l'euro recuperato E vai Bella te la tiene addosso Esatto Mentre qua davanti Mega motore Quindi non c'era lo spazio Ma direi che comunque una clip degna di esserci Dall'autostrada lì dietro Ci ha visto passare e si è fermato Ovviamente per andare a tutto questo Grande Il numero uno Direi che non esiste cosa più adatta Che testare se abbiamo messo bene tutto Ma mamma ti devi arrabbiare non ti devi trattenere e poi sgridarmi solo quando smetto di fare il video Senti che si sposta tutto dietro Come indizio ma forse non era molto chiaro e adesso lo scoprirete E io lo so che adesso arriveranno dei commenti come dire dopo la spesa che hai fatto dopo che vai in giro con la macchina che hai Perché vai al McDonald's perché lo so perché ci sono già stati altri mille commenti di questo tipo Per cui la risposta è che è buono mi piace mia mamma le piace ti piace? E quindi andiamo a mangiare qua Quindi se volete commentare commentate pure E io lo so che qualcuno di voi mi dirà anche qualcosa perché sto utilizzando l'applicazione per mangiare qua Per la mamma Questo per la mamma Questa che è di meno Per la mamma Vorrei farvi vedere quanti pacchetti di patatine la Marina ha nel suo vassoio Così cari amici siamo giunti alla fine di questo video Spero che vi sia piaciuto La spesa che abbiamo fatto oggi la facciamo una volta all'anno Da ormai tre anni Quindi è tradizione ed è la spesa dei regali di Natale E per i primi circa sei mesi dell'anno Per cui non è che ogni volta che andiamo a fare la spesa facciamo una roba del genere Punto uno e punto due non la facciamo ogni giorno ma una volta all'anno Se vi è piaciuto questo video commentate qua sotto Diteci la vostra E poi ho letto che un'altra delle cose che volevate era andare al Mac Drive con la Portofino Per cui se ancora dovesse essere così Perché no? Si può fare Ciao Ciao Grazie a tutti.